Grazie a tutti, ringrazio il professor Vitale per l'invito, per poter discutere di un tema che a noi fisiatri sta molto a cuore, quindi l'inserimento dello sport e dell'attività sportiva nell'ambito della disabilità e del progetto riabilitativo, in particolare nell'ambito del Dipartimento di Medicina e Riabilitativa di Piacenza, io sono anche il direttore dell'unità spinale, quindi della struttura di una delle due strutture della nostra regione, delle 27 sette strutture che in Italia governano, gestiscono, curano le persone che hanno avuto una lesione al midollo spinale. Il rapporto tra le unità spinali e lo sport è sempre stato molto stretto, fin da quando nel dopoguerra i piloti della RAF che furono feriti nella battaglia d'Inghilterra furono ricoverati in una delle prime unità spinali europee a Stoke-Mandeville e formarono un gruppo di interesse sportivo, un gruppo di arcieri per l'esattezza che esercitandosi progressivamente in questa attività, nell'ambito poi delle Olimpiadi del 48 a Londra, contribuirono a creare i primi giochi che allora si chiamavano paralleli insieme ad una serie di altre squadre nazionali, in particolare quella tedesca, subito dopo la guerra, e quella olandese. Artefice di questo tipo di esperienza fu questa persona, Sir Ludwig Gutmann, che oltre a essere la persona che ha introdotto il concetto di sport nell'ambito della lesione midollare è anche stata la persona grazie alla quale probabilmente è stata salvata la vita di molti pazienti che hanno avuto una lesione del midollo spinale perché ha inventato sostanzialmente uno dei sistemi che ancora oggi sono quotidianamente utilizzati nella nostra pratica clinica che è lo svuotamento della vescica che come sapete insieme all'intestino è una delle due funzioni che vengono completamente abolite e paralizzate dalla lesione midollare. Grazie alla conoscenza con Gutmann il professor Maggio, allora l'Inail di Roma, fece in modo tale da poter far partire i primi giochi paralimpici a Roma nel 1960, questo è un filmato di questo evento. Le prime edizioni invernali furono nel 1976 in questo posto che non oso pronunciare in Norvegia, quindi evito di esercitarmi con il norvegese perché non mi appartiene. Ovviamente nel corso degli anni molte cose sono cambiate, è cambiata la mentalità dell'atleta con disabilità, sono cambiati i materiali, guardate in questa immagine le carrozzine che venivano utilizzate per l'attività sportiva, siamo nel 1960, quindi non cent'anni fa sostanzialmente, sono del tutto simili a quelle che oggi sono le carrozzine di autospinta per le persone disabili normali, non atleti. E questa evoluzione dei materiali ha poi consentito progressivamente anche la possibilità di adattare per ogni singola specialità sportiva delle carrozzine particolari, qui in questa immagine di Tanni Gray per l'atletica, fino alle carrozzine con la campanatura e la crociera per l'attività sportiva del basket, fino a carrozzine ancora più particolari ad esempio per la pratica del rugby in carrozzina. Non soltanto le carrozzine ma in generale i materiali si sono modificati, le fibre di carbonio ovviamente hanno dato un grande contributo e anche le protesi a restituzione di energia che consentono sostanzialmente una performance del disabile sportivo che si sovrappone se non supera in alcuni casi addirittura quello dell'atleta non disabile. E questo ha consentito ovviamente alle persone con lesione midollare non soltanto la pratica di molte attività sportive, lo sci, lo snowboard. Non ci sono ovviamente soltanto i campioni, ci sono anche i disabili che non colpiscono i media. Questa diapositiva tradisce le mie origini e tradisce anche la mia fede calcistica, è un campus del Torino dedicato ai ragazzi con una sindrome anti-down. Non voglio scendere nella bananità, credo che questa sia la sede dove questo concetto è sufficiente leggerlo, quindi lo sport consente di migliorare qualità fisiche, potenziare aspetti cognitivi e sviluppare le competenze socio-relazionali. Nell'ambito del progetto riabilitativo anche l'ICF ci ricorda che comunque la partecipazione dell'individuo è legata ad alcuni fattori ambientali e introducendo l'attività sportiva nel progetto riabilitativo sicuramente la persona con disabilità può potenziare le sue competenze fisiche ma anche psichiche e spesso purtroppo nel progetto riabilitativo viene un pochino lasciato da parte la proposta di attivare l'esercizio fisico finalizzato allo sport, viene sempre posizionato in secondo piano rispetto poi a quello che è l'interesse prioritario soprattutto nelle strutture di degenza che è quello motorio nella stragrande maggioranza dei casi. Ovviamente anche qui per non scendere nella banalità l'attività sportiva aumenta l'autostima, aumenta l'autoefficacia, aumenta sostanzialmente l'autonomia e la fiducia per la persona con disabilità. Scendendo un pochino più nel tecnico riprendo in parte quello che ha detto anche prima il professor Vitale, è dimostrato come facendo un confronto fra gruppi di persone che svolgono regolarmente attività sportiva con disabilità e persone con disabilità che non fanno attività sportiva, nel gruppo delle persone sportive si riducono il numero di ricoveri ripetuti nel corso del tempo per l'insorgenza di complicanze terziarie, segnatamente le piaghe da decubito piuttosto che le infezioni e si riducono anche i giorni di attività ambulatoriale e riabilitativa nelle persone che fanno regolarmente attività sportiva. E ancora per fare riferimento all'evidenza scientifica ci sono due elementi che ostacolano in alcuni casi questo tipo di approccio e sono la paralisi, come vi dicevo prima, dell'intestino e della vescica che sono ovviamente due elementi di impatto sulla qualità di vita e che molto spesso impediscono l'allenamento, impediscono l'attività agonistica. Ebbene le persone che comunque attraverso quello che ormai le tecniche riabilitative ci consentono fanno attività sportiva hanno meno problematiche dal punto di vista vescicale intestinale e non è soltanto un problema meccanico, nel senso che viene facile pensare che una persona che si muove possa avere un intestino che funziona meglio, ma in realtà l'attività sportiva determina un miglioramento di quelle che sono le afferenze sensoriali e attraverso un miglioramento delle afferenze sensoriali il sistema nervoso autonomo che è quello che governa vescica e intestino funziona meglio. Esiste un rapporto addirittura tra l'utilizzo degli esoscheletri, poi li vedremo velocemente, e il miglioramento dell'attività intestinale. E ancora l'altro elemento che spesso blocca l'atleta è il dolore, il dolore neuropatico proprio di tutte le patologie di origine neurologica e particolarmente dalla lesione spinale. Anche in questo caso consumano meno farmaci gli atleti per il dolore rispetto alle persone che non fanno attività fisica. Con tutte queste premesse già dal 2015 nella sede dell'unità spinale che prima era a Villanova d'Arda, poco distante di qui ed ora è a Fiorenzuola nella nuova sede, grazie alla convenzione che è stata stipulata con il Comitato Italiano Paralimpico, si è cercato di sviluppare un'attenzione particolare per i pazienti, arrivando in qualche modo ad una situazione strutturata di allenamento per quello che riguarda le attività che qui vedete, quindi il calcio balilla, il tennis tavolo, il gioco delle bocce e allora a Villanova avevamo più spazi, quindi il tiro con l'arco e l'attività in palestra con la squadra di basket e con l'handbike e adesso speriamo a Fiorenzuola di poter riprendere questo tipo di attività. Che cosa ci aspetta sempre sperando che questa nuova sede anche ci possa dare delle grandi soddisfazioni? Prima di tutto la possibilità di utilizzare materiali nuovi, la robotica, qui vedete una pedana stabilometrica che sarà quella che utilizzeremo nella nuova sede che viene sostanzialmente utilizzata per migliorare il controllo del tronco, questo è un atleta che conosciamo e che lavora sulla pedana per poter migliorare ripeto il proprio controllo motorio e poi l'uso degli esoscheletri anche in questo caso che ovviamente non sono soltanto un sistema per spostarsi ma hanno un'azione anche dal punto di vista psicologico perché comunque il paziente con ovviamente le dovute caratteristiche cliniche può essere rimesso in piedi e può in qualche modo spostarsi e guardare come dicono poi le persone che hanno contribuito a questo video, guardare negli occhi l'altra persona con cui si parla. E ancora uno spunto di ricerca, prima è stato anche citato dal professor Vitale, il microbiota è una cosa di cui parlano quasi tutti ormai e esiste un'evidenza scientifica per cui l'atleta è in grado di migliorare la propria flora intestinale senza dover ricorrere a particolari o a farmaci direi fuori dalla norma e attraverso il miglioramento del microbiota può migliorare la propria performance e noi stiamo avviando un progetto per lo studio del microbiota in generale della persona disabile e non sarebbe brutto poterlo anche studiare nell'ambito dell'attività sportiva. E vi ringrazio per l'attenzione. Io mi chiamo Giorgio Chiaranda, lavoro all'House di Piacenza, la struttura di medicina dello sport e ho avuto la fortuna di avere anche la regenza di un'unità operativa di epidemiologia quando è scoppiato il Covid, per cui tra le varie cose mi occupo anche di questo. Abbiamo il titolo della sessione, ecco, è la filiera che porta dalla riabilitazione allo sport. Un pochino di cose le abbiamo detto. Perché uno spazio per lo sport dopo la riabilitazione? È stato detto più volte. Insomma, PubMed ci dice che migliora in generale l'autonomia, che migliorano in generale le condizioni di salute. Non PubMed, ma gli assistenti sociali banalmente nei gruppi di lavoro ci dicono che può utilmente entrare nel progetto di vita di una persona, soprattutto quelle persone che dopo l'evento non hanno più un lavoro a tempo pieno e quindi devono anche costruire un progetto che impegni la giornata con delle finalità. Però, come spesso succede quando si parla della relazione tra esercizio fisico e salute, a fronte di questa montagna di grafici crescenti su PubMed di pubblicazioni che dicono fa bene, si fa fatica poi a vedere nella pratica le persone che effettivamente beneficiano di questa opportunità. In particolare, nello sport per disabili ci sono due problemi fondamentali. Uno è l'adattamento del gesto tecnico. Su questo io non ho molto da dire perché parlo davanti a una platea che ne sa molto più di me e che ha trovato ottime soluzioni per risolvere questo problema. Il problema grosso è il luogo invece per la pratica dello sport, soprattutto quando si parla di luogo, tra virgolette, cioè non soltanto il posto, ma la società sportiva che è vicino a casa, che ha gli orari compatibili con la vita della persona, che è frequentabile con regolarità, che ha le competenze tecniche per poter accogliere e far crescere la persona secondo il suo percorso e magari anche la possibilità di interfacciarsi con la parte sanitaria se necessario. Chiarisco che adesso parlo proprio di sport. Noi come Emilia Romagna, quindi in conseguenza anche come Piacenza, abbiamo investito più di altre regioni in quello che è attività fisica adattata, quindi una pratica di esercizio fisico che si caratterizza per avere dei protocolli abbastanza definiti, sia pure con una loro variabilità non competitiva, con un aspetto ludico importante ma non preponderante, in cui invece è prevalente la preoccupazione per la propria salute. Qui parliamo proprio di attività sportiva adattata, che è una cosa abbastanza diversa, quindi orientata comunque alla competizione, dove l'aspetto ludico è centrale, quindi da questo punto di vista forse anche un valore maggiore per la persona che la pratica nell'ambito del suo contesto di vita, competitiva e che talvolta può essere anche soggetta a tutela sanitaria quando è agonistica, quindi la salute qui non è centrale ma a volte può addirittura innescare delle problematiche di salute o comunque delle attenzioni per la salute. Abbiamo lavorato negli anni passati su tutti e due gli aspetti, questo qui è un sito web della regione Emilia Romagna alimentato dalle AS, compresa l'AS di Piacenza, in cui ci sono tutta quanta una serie di opportunità per l'attività fisica, tralascio i gruppi di cammino perché non sono qui l'oggetto, ci sono le palestre che sono riconosciute formalmente con delibera dalla regione Emilia Romagna che possono fare attività fisica adattata perché hanno un laureato in scienze motorie o meglio adesso si può dire un kinesiologo dell'attività motoria preventiva adattata al loro interno e ci sono anche tutte le attività sportive censite in collaborazione col Comitato Italiano Paralimpico e gli enti di promozione sportiva che offrono attivamente attività sportiva per i disabili. E qui arriviamo un po' alla fine di quella filiera della riabilitazione che accompagna la persona con disabilità dalla fase riabilitativa fino al territorio. Non è facile però far funzionare questa rete. Ci si è provato sempre con finanziamenti regionali compreso un bel progetto del 2019 interrotto brutalmente a febbraio 2020 che aveva riguardato il distretto di Ponente dell'Aus di Piacenza che prevedeva non proprio l'equip dei sogni ma comunque un percorso strutturato di offerta sistematica di esercizio fisico alle persone con disabilità che ruotavano attorno ai servizi sociali che vertevano su una casa della salute del territorio. Quindi con un kinesiologo collegato al CIP a fare da punto di riferimento e poi la possibilità di interfacciarsi con tutta l'equip multidisciplinare che in qualche modo si prende carico dei percorsi inerenti alla disabilità con connessioni con il volontariato del territorio e un legame comunque con la medicina dello sport. Fin adesso abbiamo parlato spesso del CIP. Siccome parliamo di inclusione voglio fare un passaggio su chi sta ai margini dello sport paralimpico. C'è tutta un'area grigia di persone che soffrono di patologie mentali ma per vari motivi non hanno una disabilità certificata. C'è anche un'area che è stata esplorata in alcune sperimentazioni in particolare a Bologna con la collaborazione Trause e Università di persone con disabilità acquisita che però non hanno ancora o non hanno comunque una certificazione che si dice perché proporre a questi solo l'AFA e non proporgli anche l'avvio a certe forme di sport adattato, non paralimpico, stavo per dire adattato perché non è ancora nell'ambito. Quindi c'è anche quel possibile sviluppo. Con problemi aggiuntivi, l'inclusività, cioè queste persone spesso non essendo classificate vanno a gareggiare, ad allenarsi con persone con diversi gradi di abilità. con morbidità più disparate perché qui dentro c'è tutta la patologia mentale che assume tutta una serie di farmaci, ha una serie di abitudini che le rendono persone a rischio cardiometabolico e cardiovascolare spesso importante e problematiche che sono soprattutto legate qui non tanto al gesto perché non è così importante ma all'organizzazione dell'allenamento, quindi una capacità di gestione del gruppo che includa anche queste persone. Infine, per chi decide di farlo, ecco c'è lo step della valutazione di donità che mi sembra che adesso in Regione sia abbastanza funzionale nei centri pubblici, è gratuita e può essere svolta nei centri pubblici. A Piacenza, finalmente, ad alcuni anni abbiamo la possibilità, gli spazi, le attrezzature e anche le esperienze, insomma, per poter garantire percorsi specifici per l'idoneità alle persone con disabilità con tempi d'attesa estremamente ridotti e un tempo di valutazione di un'ora, quindi molto più lungo rispetto a quello che si dedica ai normodotati. Ci sono ancora delle problematiche normative, per esempio non è chiaro ancora l'idoneità per le squadre miste, dove c'è un disabile che magari gioca assieme ad altre persone e è migliorabile probabilmente, ma spero che si possa fare presto la consulenza specialistica su alcune problematiche specifiche. Queste sono le problematiche. Dal punto di vista normativo ci viene in aiuto per sviluppare ulteriori progetti il piano della prevenzione 2021-25, che nonostante l'intervallo 2021 verrà approvato entro la fine del 2021 da parte delle regioni, che è un documento di pianificazione importante nella programmazione sanitaria, che in questo quinquennio è particolarmente orientato alla parola d'ordine della salute in tutte le politiche, cioè il fatto che la salute non si gioca prevalentemente in ambito sanitario, ma si gioca assieme ad altri settori, anzi si gioca prevalentemente fuori dal sistema sanitario, nel wellness, nel settore della mobilità, nel settore della scuola e poi per tematiche diverse dall'esercizio fisico, ovviamente col tema dell'agricoltura sicuramente è molto attinente il tema dell'ambiente e il tema dell'esercizio fisico. Un programma in particolare che si chiama Comunità Attiva raccoglie, e questo è vero a livello nazionale perché è un programma predefinito che il Ministero ha voluto uguale per tutte le regioni, anche se ha declinato poi in modo diverso tra le varie regioni, ha voluto il programma Comunità Attive. In Emilia Romagna abbiamo individuato queste priorità che come vedete vanno oltre la disabilità, quindi per i giovani c'è molto attenzione alla fruibilità di spazi pubblici, promozione dell'attività fisica anche nei percorsi casa-scuola, c'è l'offerta di attività sportive ma c'è soprattutto la prevenzione dell'abbandono dell'attività sportiva in età adolescenziale, dove si vede quella curva discendente quando si spinge verso la competizione in cui il mondo dello sport non è capace di riconvertire certe persone in uno sport un po' meno competitivo. C'è il tema degli adulti e lenziani in buona salute, anche qui spazi pubblici, ambiente, ma anche l'offerta di un'attività sportiva diversa o comunque più inclusiva per quella fascia di popolazione che ormai non ha più ambizioni di campionati nazionali o internazionali e c'è la parte della popolazione con malattie croniche e degli anziani con fragilità con dei percorsi che partono con una prescrizione in abito sanitario. Importante il collegamento con altre programmazioni, altrimenti queste cose non avrebbero gambe per andare avanti. Dalla legge che c'è in Emilia Romagna sulla promozione della salute che è la legge 19, il piano sociale sanitario che è quello che definisce la programmazione congiunta tra aziende sanitarie e comuni e che quindi è fondamentale per tutta quella che è l'attività motoria sportiva per disabili di base, quindi proprio il portare persone che hanno questo tipo di problematica a una pratica di base di attività sportiva. Sicuramente c'è una connessione forte con la legge regionale sullo sport e con la programmazione che riguarda le case della salute, future case della comunità, che è il nome che è stato dato dal PNRR. Quali sono le azioni programmate? In ambito sanitario azioni che in qualche modo riprendono, azioni che erano in corso e che purtroppo hanno avuto questa cesura forte legata all'emergenza pandemica. Si va dalle attività di counseling di primo livello, attività di secondo livello di testing e counseling in particolare per patologie croniche, prosecuzione della sperimentazione, questo è importante, alla presenza dei laureati in scienze motori in ambito AUS, declinandoli in modo particolare, questa roba che è scritta nella delibera. percorsi specifici per la valutazione di unità sportiva con persone con disabilità e presso le case della salute riprendendo il discorso dell'equip multidisciplinari. L'obiettivo è quello che per il 2025 in tutte le case della salute siano coinvolte in almeno un percorso di promozione dell'attività sportiva in persone con disabilità, quindi capace di orientare le persone che afferiscono a quella della casa della salute a un'attività sportiva. Si pensa che in questo percorso una figura chiara, però ci sono tutta una serie di verifiche da fare, possa essere proprio quella del kinesiologo dell'attività sportiva adattata che in questa accezione potrebbe operare in un ambito che ha naturalmente una vocazione sanitaria perché il suo ruolo è quello di orientamento, di raccordo col territorio e non quello di mettere le mani addosso al paziente o alla persona in ambito sanitario. Quindi in questa forma di counseling, orientamento, di supporto, di costruzione della rete delle società sportive. Deve essere ridefinita e potenziata questa rete che è specifica dell'Emilia-Romagna che è un po' antesignana assieme al Veneto delle palestre per la salute che ci sono nella nuova legge delega sullo sport, con un percorso di revisione del riconoscimento delle palestre, soprattutto per quanto riguarda la parte di base che potrebbe essere quella che dà la spunta, il motore, il tessuto riconosciuto, una rete formalizzata che consente di costruire occasioni di attività motoria anche per le persone con disabilità, ma anche per esempio per bambini sovrappeso, obesi, eccetera. E un piccolo ritocchi, una rete che invece già funziona abbastanza bene, che è quella per attività motoria adattata, che ha la parte territoriale non sanitaria di gestione delle persone che hanno invece delle patologie croniche, per esempio cardiovascolari, respiratori, eccetera. Io penso che sia importante anche sulla disabilità il tema della sensibilizzazione rispetto alla costruzione degli spazi pubblici. Io vivo in una città in cui in marciapiedi è impossibile passare con una carrozzina, non è attività sportiva, ma credo che nell'ambito della possibilità di movimento per le persone con disabilità anche questo tema abbia una forte importanza. Se ci può passare la carrozzina ci passa anche il deambulatore, ci passa un bambino o due bambini vicini, ci passa più facilmente un anziano accompagnato, cioè è un'azione per tutta la popolazione, però la misura della carrozzina per capire se la strada è davvero pedonabile, è una misura importante. Per fare tutto questo saranno previsti anche a livello istituzionale delle occasioni tipo questa in cui sanitari e kinesiologi con operatori degli enti locali, stakeholder, faranno delle formazioni comuni per costruire questi percorsi e questa formazione verrà costruita grazie all'attenzione che è stata dimostrata in questo momento da parte del servizio dell'ufficio della presidenza che si chiama delega allo sport di costruire un percorso condiviso con il comitato italiano paralimpico con gli enti di promozione sportiva per identificare delle azioni congiunte in cui entreranno poi anche le aziende USL come braccio operativo della regione per promuovere questo tipo di percorsi. Io passo poi alla seconda relazione che avrebbe dovuto fare il dottor Pedrazzini che è direttore sanitario, però si è mescolato il desktop, vediamo se riesco a trovarla lo stesso, sì, che è direttore sanitario dell'azienda USL di Piacenza che è in stretto collegamento sia con quello che ho detto io e con quello che ha detto il dottor Lamberti prima e che in qualche modo descrive come si è immaginato a partire dalle basi che vi abbiamo raccontato finora, senza le quali penso che sarebbe impossibile immaginare qualcosa del genere, un punto importante, importante non solo a livello locale, a livello di azienda, ma anche a livello nazionale in cui attuare questa filiera che dalla riabilitazione va alla pratica sportiva. è un percorso che vede, anzi che per quanto è già in corso di realizzazione, vede i commenti coinvolti il Comitato Italiano Paralimpico, direi da protagonista, la Regione Emilia Romagna, l'azienda USL di Piacenza e il Comune di Villa Nuova d'Arda. A Villa Nuova d'Arda esisteva, ormai si può dire, un ospedale riabilitativo che derivava da un lascito di Giuseppe Verdi che aveva lasciato una bellissima villa in una zona tra l'altro anche, direi dal punto di vista paesaggisticamente molto gradevole, che era stata poi donata per diventare un ospedale ed è arrivata a diventare poi proprietà dell'USL di Piacenza e vi si trovava uno dei due poli riabilitativi dell'Emilia Romagna, quello che avrebbe dovuto raccoglieva insomma, raccoglieva, pur con alcune problematiche legate alla vetustà della struttura, le persone con miele lesioni che provenivano dall'area nord dell'Emilia Romagna. Nell'ambito di una riorganizzazione complessiva della rete ospedaliera, per cui è stato necessario concentrare, specializzare alcuni ospedali, si è deciso di trasferire questa funzione sanitaria all'ospedale di Fiorenzuola, che è lungo la via Emilia, più facilmente accessibile, raggiungibile in autostrada, che doveva essere comunque ricostruito perché non avrebbe retto un terremoto per cui aveva bisogno di essere appattuto e doveva essere ricostruito secondo Nuovicano, insomma si è accolta a questa occasione per il trasferimento e per riqualificare il centro di Villanova mantenendo la sua vocazione alla cura, in qualche modo, in senso più lato, in questo senso non in senso sanitario, della disabilità. È stato presentato il progetto nel 2017 ed è stato finanziato con fondi del CIP, di cui è stata già erogata la prima tranche ed è in corso di formalizzazione la seconda tranche. È in posizione strategica perché è in grado di raccogliere persone che provengono dall'Emilia Romagna ma anche dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Liguria, dal Piemonte, quindi non per niente Piacenza è il cuore della logistica, è facilmente raggiungibile da una vasta area del nord Italia. È vicino a 14 unità spinali, di cui 3 sono deputate esclusivamente al trattamento delle mielolesioni e diventerà un centro di preparazione paralimpica, il secondo in Italia dopo quello di Roma, quindi il centro di preparazione paralimpica in qualche modo di riferimento per tutto il nord Italia. L'obiettivo è di avere al suo interno sì atleti paralimpici, ma di mantenere la forte connessione con le unità spinali, quindi di avere anche un primo approdo dopo l'unità spinale, mantenendo quindi in qualche modo viva anche la minima sanitaria. Persone con disabilità interessate a vario titolo all'avviamento allo sport ed essere anche di riferimento per i cittadini in quel territorio, del territorio in particolare, ma non solo quelli affetti da disabilità. Riferimento nazionale per gli atleti di livello nazionale e internazionale, e sarà in grado di offrire un'ospitalità prolungata, quindi ci sarà anche una struttura di ospitalità delle stanze, insomma fatta in modo da poterci vivere all'interno per diverse settimane, in modo tale da poter usufruire delle strutture. Con, appunto, abbiamo detto anima sanitaria, anima dell'atleta d'elite, anima della rieducazione alla vita quotidiana, accompagnata a quella. Quindi un centro di rieducazione e di avvio all'attività sportiva veramente a 360 gradi. Con l'idea che la presenza dell'atleta paralimpico non sia appunto un obiettivo troppo lontano da raggiungere, ecco per le persone che sono lì, ma proprio un elemento anche motivante a riacquistare una propria vita dopo l'evento traumatico. Questo in qualche modo l'abbiamo già detto, atleti potranno utilizzare le infrastrutture sportive e alberghiere, ma tutti gli utenti con disabilità, anche non di altro livello, potranno approfittare di pacchetti di ospitalità, di avvio all'attività motoria e sportiva. L'obiettivo è quello di organizzare appunto la fase post-dimissione degli utenti delle abilità spinali con possibilità di continuare a soggiornare presso il centro. Ovviamente c'è un tema di comunità di riferimento, il Comune ci ha messo i suoi impianti sportivi, ci saranno anche cittadini del territorio che non solo con disabilità, che afferiranno alla struttura per utilizzare gli impianti che adesso andiamo a vedere. Ci sarà la palestra polifunzionale, degli spazi da ricavare per la pratica di diversi sport, sono un po' quelli che erano già praticati quando era struttura ospedaliera. Il palazzetto con il campo da basket, pallavolo, insomma è attrezzabile per poter essere, è regolamentale come campo da basket e può essere quindi utilizzato con un ampio spazio attorno, può essere utilizzato per diversi sport. Verrà costruita la pista di atletica, un campo da tennis, sarà quello già esistente adiacente del Comune, ci sarà il campo da calcetto, 50 posti letti e un'area per attività sanitarie al suo interno. Questa è la planimetria dell'area, vado avanti perché non voglio portare troppo tempo, questo è l'edificio che dovrà essere abbattuto e ricostruito, dove ci saranno gli uffici, le mense, l'area di soggiorno, gli appartamenti e una piccola palestra. Rimarrà ovviamente la villa storica verdiana che sarà riqualificata anche dal punto di vista artistico e che sarà deputata prevalentemente alle strutture e all'ospitalità. Questo è il blocco già esistente che contiene le strutture sportive, comprese la piscina ex-riabilitativa che potrà continuare ad essere usata per l'adattamento all'acqua, le palestre, i locali struttori, le infermerie, eccetera, la pista outdoor in costruzione di 120 metri, la piscina coperta che è in fase di costruzione e che sarà fruibile anche dalla popolazione delle terre verdiane circostanti e l'utilizzo dei campi sportivi comunali già esistenti. Siamo arrivati dopo appunto progetto di fattibilità, protocollo d'intesa col Comitato Italiano Paralimpico per la gestione, alla gara dei lavori e è previsto per la primavera di quest'anno la consegna dei lavori della piscina, la conclusione di quest'estate, la conclusione del primo stralcio di lavori. Non è ancora stato formalizzato, però è stato deciso ed è garantito il secondo stralcio che poi consentirà di concludere i lavori e di aprire il centro nel 2024. In quest'ambito si sviluppa una seconda collaborazione che è quella che si sviluppa tra l'Aus di Piacenza, l'Università di Parma e l'azienda ospedaliera Università di Parma che intende portare a un programma interaziendale di medicina personalizzata e tecnologie per le attività residue. Quindi una collaborazione tra questi tre enti che porterà a valorizzare ulteriormente questa esperienza attraverso un centro di alto contenuto scientifico e tecnologico. La finalità è quella di arrivare a un centro che sposti il focus dalla presa in carico in ambito sanitario a un'area però ancora ad alto contenuto scientifico e tecnologico che porti alla presa in carico nella dimensione sportiva. Che cosa significa questo? Significa che occorrerà riuscire a coordinare le relazioni tra funzioni specialistiche di secondo e terzo livello che devono ruotare attorno all'atleta disabile. Sarà necessario sviluppare la formazione di base, quindi corsi di laurea in scienze motorie e si spera specializzazione in medicina dello sport condotti dall'Università di Parma. Quindi mi permetto di dire con un forte orientamento anche pratico, precoce, accompagnato allo sviluppo di ricerca scientifica. Una capacità di presa in carico dei problemi specifici, specialistici dell'atleta disabile sia attraverso le funzioni specialistiche che saranno prontamente disponibili a Fiorenzuolo lì vicino dove si sta costruendo un ospedale che è a vocazione esclusivamente riabilitativa quindi con una parte riabilitativa importante ma tutta una serie di altri specialisti non riabilitatori che intervengono nel percorso di cura nel disabile che si completa poi all'azienda ospedaliera universitaria di Parma per quelle ultra specialità che non saranno ancora disponibili a Fiorenzuola l'azienda ospedaliera poi parteciperà anche portando propri specialisti a Fiorenzuola se non sono disponibili presso l'House di Piacenza e creando quindi a Villa Verdi una struttura integrata di medicina dello sport scienze dello sport adattato e medicina personalizzata e tecnologie per le attività residue per le abilità residue, scusate è chiaro che questo diventa un centro di valenza abbondantemente sovraregionale e verosimilmente di riferimento nazionale i partner, l'abbiamo già detti ho l'abitudine di anticipare con le diapositive precedenti le cose di quelle dopo ma l'House di Piacenza ovviamente con la struttura con l'unità operativa di medicina dello sport in fase di costruzione, l'istituzione del programma e naturalmente il contributo della medicina riabilitativa della vicino ospedale di Fiorenzuola l'Università di Parma attraverso il corso di laurea magistrale e l'istituzione programmata della scuola di specializzazione in medicina dello sport e la creazione, forse sarebbe meglio dire l'implementazione del know-how già esistente di analisi clinica del movimento esistente nell'Università di Parma e l'azienda ospedaliere universitaria appunto con la messa a disposizione dei percorsi assistenziali di ultraspecialità non disponibili già sul territorio ovviamente parte fondamentale il Comitato Italiano Paralimpico che garantisce la gestione complessiva del centro e il collegamento con le attività motorie supporto specialistico quindi con analisi della performance analisi del movimento l'abbiamo già detto pianificazione di programmi personalizzati ma poi anche tutta quella parte della filiera terminale diciamo della filiera terminale in questo caso in senso positivo che poi porta nel territorio vicino alla casa del paziente in collegamento con la casa della salute in collegamento con le società sportive quindi un gran lavoro di raccordo con tutto quello che è il mondo dello sport un po' quando si era iniziato il programma noi ci trovavamo e dicevo va bene bisogna orientare il paziente all'attività sportiva quindi si fa la valutazione clinica e si decide sì però teniamo conto anche di che cosa ha poi attorno a casa quindi ci sono vari aspetti multidimensionali da tener conto quando si orienta a una specifica attività c'è poi tutta la parte sanitaria più vicina diciamo alla parte sanitaria quindi la gestione delle patologie emergenti la promozione della ricerca nel campo della medicina e dello sport abbiamo detto la forte presenza dell'Università di Parma e l'obiettivo appunto di diventare anche un centro di ricerca tecnologica quindi questo potrebbe anche contribuire naturalmente alla sostenibilità del tutto è chiaro che questo diventa un centro privilegiato per poter fare attività di ricerca anche di sviluppo di prototipi di protesiche specifiche per l'attività sportiva perché è chiaro che ci saranno tutte le competenze tutti i soggetti, tutti i tester per questo tipo di ricerca si intende mantenere naturalmente la parte di medicina dello sport sia con la parte di certificazione di idoneità sia con lo sviluppo di tutto ciò che ho detto già nella prima relazione per cui non mi dilungo della rete delle palestre della rete dell'offerta di attività sportiva del territorio e di formazione dei tecnici che operano in queste strutture fondamentale il rapporto col corso di laurea in scienze motorie di Parma in cui appunto porterà non solo competenze da una parte ma sarà anche, offrirà opportunità di tirocinio estremamente qualificato agli studenti che frequenteranno l'Università di Parma e che avranno la possibilità di frequentare questa struttura ci saranno i numeri per la costruzione di un curriculum in medicina dello sport votato non all'idoneità, piace dire a me ma a quella che secondo me è la vera frontiera della medicina dello sport cioè lo sport come terapia lo sport come benessere lo sport come superamento della patologia della persona e il fondamentale contributo per tutta la parte di bioingegneria fondamentale il rapporto con Inail che sapete è tuttora il principale finanziatore dell'attività sportiva per le persone con disabilità c'è almeno una decina di unità operative coinvolte a vario titolo nei percorsi ultraspecialistici che riguarderanno le persone mielonese che saranno avviate allo sport neurologia, ginecologia, urologia radiologia, tegrafia del dolore decardiologia anche per quanto riguarda poi lo sviluppo delle attività motorie per persone che non sono strettamente disabili andranno costruite tutta una serie di relazioni esterne per sostenere questo progetto che comprendono le facoltà di bioingegneria di bioinformatica che vengono in particolare dall'area della Bicocca Milano le associazioni per i disabili le varie federazioni sportive che ruotano attorno naturalmente al mondo dello sport e la disabilità che dovranno essere naturalmente coinvolte nella rete oltre al centro di Villanova di cui ho parlato ho già accennato sarà strettamente coinvolta naturalmente la medicina riabilitativa e l'ospedale in generale riabilitativo di Fiorenzola che è lì vicino che è idealmente in perfetta continuità funzionale e l'azienda ospedaliera universitaria di Parma grazie per l'attenzione